Prima 26 e 23, ora Caritra, attenzione la norvegese campionessa olimpica di Salt Lake City, partita Caritra. Primo salto per la track, un ottimo playback, seconda serie, fase intermedia di Gobbe per la norvegese, si sta avvicinando al secondo salto, vediamo se rischierà. No, non ha rischiato però, ha fatto un ottimo salto, 30.87, il tempo migliore fino a questo momento, dignitosamente 27.31, primo posto, quindi vittoria per Caritra, che sentiamo i nostri micro.